Allora, sono Corrado Capicevinuto, ho sempre fatto il Prodiere di 4,70 e sono sette anni che manco dalla classe. E niente, quest'anno ho deciso di ricominciare, ho trovato tanti ragazzi, tante facce nuove e un bel livello in Italia. E quindi, niente, la prima regata, sono un mesetto che abbiamo ripreso, che ho ripreso ad andare sulle derive e niente, ci siamo divertuti un sacco, tanto vento e belle condizioni.